eccoci e bentornati sul mio canale un video news su call of duty world war 2 ragazzi incredibile perché all'interno dei codici della versione pc beta di call of duty world war 2 sono stati trovati un mare di dettagli non soltanto nazi zombies ma anche multiplayer quindi mettetevi comodi e ascoltate per bene tutto quello che vi devo dire in questo video raggiungiamo almeno i 300 mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici che cosa è stato scoperto all'interno del codice della versione beta pc di call of duty world war 2 la mappa zombies o meglio la mappa nazi zombies al lancio del gioco dovrebbe chiamarsi the final reich e i giocatori dovranno ritrovarsi o meglio si ritroveranno in bavaria in una base segreta nazista dove dovranno vedersela appunto con i nazi zombies sono stati trovati all'interno dei codici innanzitutto i perk che dovrebbero essere tre più interessanti vi posso riportare a il blitz che praticamente raddoppia la vita panzer blitz che ci permetterà di utilizzare una macchina che inietta dell'energia aggiuntiva al nostro soldato proteggendolo in determinati momenti google blitz con il codename double tap che dovrebbe praticamente aumentare il danno delle nostre armi oppure anche faust blitz che va ad incrementare il danno con le mele armor quindi con le armi corpo a corpo quindi ci sarà veramente molto da studiare all'interno del nuovo zombies ci saranno a quanto pare quattro classi offense control support e medic offense quindi la classe offensiva potremo sparare con l'arma senza spendere munizioni controllo potremo uccidere gli zombie nemici applicare dei danni leggeri oppure tenerli storditi il supporto tutti gli zombie inseguiranno questo utente però il giocatore potrà innescare un doppio danno della durata speciale mentre il medico è il giocatore che verrà ignorato dagli zombie poi è stata rilasciata una lista dei perk e delle mod relative appunto alle classi di cui vi posso ad esempio riportare da questa lista il death full medic cioè non prenderemo danni quando staremo rianimando un nostro compagno di partita oppure l'exploit wetness cioè gli avversari storditi dalle granate shell shock verranno danneggiati con danni triplici ci saranno anche dei perk per le armi ad esempio facendo 100 uccisioni senza andare per terra genereremo una sorta di uberladen che però non viene specificato di che cosa si tratta oppure un altro potremo aumentare i danni corpo a corpo però andando a diminuire i danni degli headshot una cosa molto importante che è stato trovato all'interno appunto di questi codici è la conferma della mystery box e si parla anche del prestigio sembrerebbe che il prestigio in zombie al momento non è implementato però ovviamente questi sono codici trovati all'interno della versione beta pc staremo a vedere se poi ci saranno novità nel gioco completo un'altra cosa presente all'interno del gioco saranno i power up quindi doppi punti uccisioni istantanee massime munizioni la nuke quindi moriranno tutti i nemici intorno a noi mentre al momento le uniche mimetiche svelate sono la pacca punch camo e la blood raven camo passiamo invece a vedere il multiplayer innanzitutto la sledgehammer games ha svelato le prime due immagini della mappa londra london map mappa che è stata utilizzata dalla sledgehammer games per farci vedere anche una nuova immagine di gridiron che sarebbe praticamente la modalità uplink di call of duty advanced warfare in versione call of duty world war 2 sono state anche trovate all'interno di questi codici tutte le armi al momento presenti vediamole fucili d'assalto l'M1941 l'M1 Garand l'STG44 l'M1A1 l'FG42 e il BAR le mitragliette il PPSH41 il TAP100 l'MP28 la Grace Gun il Thompson e l'MP40 mitragliatrici leggeri Lewis MG15 il Bren e l'MG42 fucili da cecchino il Lee Enfield la Carabine l'M1903 Springfield il Commonwealth il CARC98K e l'SVT40 fucili a pompa il Walker Tokele Action il Winchester 1897 l'M30 Luke Waffig Drilling e il Winchester Model 21 tra le pistole la P08 l'M1911 la Machine Pistol e l'M712 armi speciali quindi lancia missili l'M1 Bazooka e il Panzer Strike al momento l'unica arma corpo a corpo trovata all'interno della beta è la pala sono state anche svelate quelle che dovrebbero essere le mappe che troveremo nel multiplayer a lancio dovrebbero essere 13 partiamo Aken, Atharn, Point Duok, Flak Tower, la foresta dell'Ardenne, Gibraltar una mappa che a un punto interrogativo dovrebbe essere che ha come codice Map Wolf Slayer, Saint Marie Dumont, Gustav Cannon, Carentan che ovviamente è la versione di Call of Duty 2, USS Texas, London Docks e Paris quindi Parigi inoltre sono state trovate anche le operazioni che troveremo nella modalità guerra l'Operation Aken, Operation Griffin, Operation Breakout che abbiamo trovato nella beta e Operation Neptune. Vi ricordo che le missioni di War verranno introdotte man mano con IDLC si è parlato anche delle divisioni che come ben sapete saranno 5 nella beta si poteva raggiungere massimo livello 4 mentre all'interno dei codici trovati nella versione beta PC si è letto che le divisioni avranno livello massimo 8, le divisioni avranno 4 prestigi con l'ultimo che prenderà il nome di Grand Master. Vi ricordo che le divisioni e al completamento delle divisioni ci saranno date anche delle armi speciali relative a quella divisione. Infatti si vocifera che una delle mitagliette speciali potrebbe essere l'MP40. Questo è tutto quello che vi volevo dire che è stato trovato all'interno della beta PC di Call of Duty World War 2. Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video.